Ho parlato diverse volte di quanto sia importante tenere traccia delle proprie uscite. In particolare ne ho parlato in questo video qui e in questo video qui. Infatti molti di noi sanno quanto stanno guadagnando perché magari hanno uno stipendio e quindi tengono traccia, monitorano le proprie entrate, ma pochi monitorano anche le proprie uscite e quindi ci si trova poi a passare da una bolletta all'altra, da una tassa all'altra e rimanere appesi Ritrovarsi indebitati senza neanche capire il perché. In questo video, visto che in tanti me lo state chiedendo, vi mostro come personalmente vado a gestire le mie uscite in modo relativamente semplice con una tabella che ti lascerò poi linkata qua sotto che potrai copiare e costruirti poi da te. Per rendere le cose più semplici, in questa tabella, che poi è un foglio Excel sostanzialmente, andremo a tenere traccia solo di quelle che sono le uscite. Quindi non ho incluso anche le entrate perché tendenzialmente tutti sappiamo più o meno quanto ci sta entrando. In un prossimo video, anzi fammi sapere qua sotto nei commenti se sei interessato a vederlo, andremo invece a fare un passo in più cercando di unire i dati di questa tabella ad una seconda tabella in modo automatico che ci monitora sia le entrate da lavoro piuttosto che attività secondarie, gli investimenti e tutto il resto. Quindi in modo da avere un'idea generale di quello che è l'andamento delle nostre finanze. Quindi ho deciso di creare una serie in cui mostro ogni volta e spiego ogni volta una tabella diversa, una componente diversa, i cui dati poi confluiranno tutti all'interno di un'unica maschera, un'unica tabella che va a monitorare contemporaneamente tutte queste sottotabelle. Quindi come fosse un vero e proprio database in cui a noi basta andare a lavorare sul monitor delle spese, per esempio, quindi quanto stiamo spendendo, il monitor delle entrate, quanto sta entrando, il monitor degli investimenti, come stanno andando e poi modificando ciascuna di queste voci, di questi campi andranno poi a confluire all'interno di un'unica tabella, quindi un'unica dashboard che ci permette visivamente di capire come stanno andando le nostre finanze. Può essere fatto, replicato da chiunque in modo relativamente semplice, o per comodità ti lascio tutte le tabelle poi qua sotto. Ora iniziamo con questa, il monitor delle spese l'ho chiamata, cioè una tabella che ci permette di monitorare quanto sta uscendo in modo relativamente semplice. Premetto, non sono un tecnico di Excel, non sono un esperto di spreadsheet varie cose varie, mi diletto, nel senso li utilizzo, man mano che li utilizzo faccio pratica, quindi magari ci sono formule che non sono proprio perfette, ci sono cose che possono essere migliorate e se noti qualcosa che può essere migliorata o integrata, scrivimelo qua sotto nei commenti così andiamo a fare la miglioria in modo che poi tutti possiamo trarne chiaramente beneficio. Vado a questo punto a mostrarti un'idea di tabella. Questa per esempio è la tabella che sono andato a creare, ora questo qui lo mettiamo qui, dove abbiamo semplicemente la data di quando abbiamo speso, la tipologia per che cosa abbiamo speso, la descrizione, il dettaglio poi se abbiamo delle note, delle cose in più da scrivere e poi il totale speso. Tutto ciò che viene inserito qua all'interno della tabella va poi ad aggiornarsi in queste categorie. Queste, la tipologia, sono qui, sono riportate qui. Qua ci sono tutte le varie tipologie che noi abbiamo messo qua. Le tipologie sono state create con un menu a tendina. Una volta che tu hai copiato questo file, ti mostro anche come fare, basta che vai file, crea una copia, io ti lascio il link di questo file, tu fai crea una copia, te lo crea direttamente su drive e tu te lo puoi modificare da lì, da drive. Cliccando qua, se vuoi modificare le tipologie, ti basta cliccare questo ed ecco qua, puoi andare a cambiarle, mettere il colore e così via, in modo che puoi inserire le tue di tipologie in base a quelle che sono le tue spese. Io come categoria ho messo spesa, quindi costo del cibo, ho messo il totale speso per animali, quindi per chi ha degli animali in casa può utilizzare questa cosa qui, totale speso per benzina, quindi trasporti, totale speso per la casa, totale speso per altre cose e un totale speso per viaggi. Queste sono le categorie che tendenzialmente io tengo qui. Quindi qua avrei uno spaccato intero delle spese e per comodità ho creato delle tabelle che si vanno ad auto aggiornare. Le tabelle, come puoi vedere qua, sono divise per tipologia, quindi quanto è speso per ognuna di queste categorie, quanto è speso per singolo ambito e in questo caso io ho messo quanto speso per animale. Tu qua puoi andare poi a inserire quello che vuoi, puoi mettere modifica grafico e se clicchi modifico grafico puoi andare a dargli gli intervalli che vuoi, quindi che vuoi monitorare ovviamente. In questo caso io come esempio ti ho dato questo qui, quanto stiamo spendendo per ogni animale perché ci sono diversi animali e allora è più semplice monitorare e farti capire come funziona la divisione. Quindi da questo spaccato risulta che cosa? Risulta che per i viaggi ho speso un 38% di tutto questo a montare qui, per la spesa un 13%, per gli animali un 43% e altre, quindi extra relativamente poco, benzina un quasi un 3%. Quindi 40 euro di benzina sono qui, 593, quindi quasi 600 per gli animali e così via. Questo mese è stato particolarmente dispendioso perché abbiamo trovato degli animali abbandonati e quindi abbiamo provato al veterinario, abbiamo dato a mangiare e tutto, ce ne siamo presi cura e quindi questa è una delle spese che attualmente incide di più sul mio portafoglio. Poi settembre, andiamo a vedere settembre, così ti faccio vedere anche come aggiornare il tutto. Settembre ormai è quasi terminato, siamo stati più bravi, siamo a 761 spesi attualmente e tutte le varie categorie. Ora, io ho inserito proprio stamattina delle nuove spese, non le ho registrate qua perché non ho idea di come si faccia in automatico, lo faccio in genere manualmente, così ti vado a mostrare come funziona. Quindi il 25 ho aggiunto che abbiamo fatto la spesa, questa cella qui, a me basta cliccare qua, fare questo, punto e virgola e andare a pescarmi la cella, l'ultima cella che non ho inserito. L'ultima cella che non ho inserito è questa, quindi faccio così, gli do il via ed ecco qua che si è aggiornato. Stessa cosa qui, vado a fare il punto e virgola e vado a pescarmi questo e poi un altro punto e virgola e questo, perché sono le ultime due spese per gli animali e il veterinario di ieri. Et voilà, abbiamo aggiornato le spese, poi abbiamo fatto anche benzina, quindi vado a fare così e i colori li ho scelti in modo che sia facile poi andare a ripescarli per fare questo lavoro qui, ecco qua 20 euro di benzina, tac, aggiunti. Poi c'è stato altro, c'è stato il casello, lo mettiamo in altre, pagato il casello, quindi anche spese micro all'inizio soprattutto bisogna avere un'idea chiara di tutte quelle che sono le uscite, non importa quanto siano grandi. Poi spese casa devono arrivare, quindi arriveranno penso in questi giorni, entro fine settembre, qua più o meno di preventivato ci saranno un 150-200 euro, quindi diciamo siamo sugli 850-900 euro più o meno qua di speso. In questo caso vediamo a questo punto che la benzina, le altre spese e gli animali sono stati più equilibrati rispetto al grafico del mese prima, che era molto più squilibrati perché appunto abbiamo trovato animali abbandonati, li abbiamo salvati. Poi c'è la spesa per ogni singolo ambito e lo speso per ogni animale, in questo caso perché traccio anche quanto stiamo spendendo per ciascun animale, l'esempio che abbiamo fatto prima. E quindi stessi grafici, stesse cose. Questa roba qui si va a riportare poi ottobre, novembre, dicembre e poi si chiude. Ora io qua ti ho lasciato da agosto a dicembre perché ho creato questo file nello specifico ad agosto. Prima utilizzavo un file molto più grezzo, quindi ad agosto ho deciso di renderlo più figo, in modo da poterne anche parlare qua sul canale, quindi avere poi graficamente tutto ben settato. E quindi l'ho creato ad agosto. Però questo qui sarà il monitor spese 2024. Poi si duplicherà il file e si creerà il monitor spese 2025. E quindi si andrà avanti così. Tenere traccia delle proprie uscite ci permette di capire dove si può andare a tagliare o dove si possono andare ad abbattere i costi. Esempio. In questo caso faccio un esempio banale, giusto per avere un'idea. All'esempio vado qua e dico guarda il mio costo maggiore attualmente è animali. Quindi io pago più per gli animali che per il resto. Ok. Come posso abbattere questo costo? In questo caso ti ho fatto apposta un grafico per gli animali. Io dico oh guarda ho dei cani. Ho due cani. Cosa faccio con due cani? Posso andare a magari comprare confezioni di cibo più grosse che mi permettono di ridurre piuttosto che piccole per ciascuno. In questo modo vado ad abbattere il costo, vado ad abbassarlo. Ho anche due gatti. Cosa faccio? Vado a comprare magari del cibo mirato. Esempio in questo caso lei è la new entry che abbiamo trovato nelle immondizie. Piccolina. Quindi è ancora piccola, prende ancora le scatolette apposta per i piccoli. Mentre questa qui è vecchia, ha 18 anni. E quindi è già un gatto più anziano. Allora non mangiano la stessa cosa, ma quando lei avrà un anno, per esempio, potrò accorpare il cibo di questi due. O meglio, le scatolette, perché poi lei ha le crocche apposta per gli anziani, lei avrà delle crocche apposta per i piccoli, ma le scatolette base si potrebbero andare ad accorpare. E quindi si va ad abbattere ulteriormente questa spesa. E così via. Quindi questo è il gioco che si può fare. Oppure, ecco, nelle altre la mia compagna, per esempio, fuma. Perfetto. Quindi si può dire, ok, riduci il fumo. O smetti di fumare. E quindi si va a compensare quella parte. Oppure, io mangio fuori. Quindi qua nelle categorie metterò il cibo fuori, il mangiare fuori. Ok, quanto spendo per mangiare fuori? Spendo x, perché vado al lavoro e spendo 5 euro al giorno. Ok, quei 5 euro al giorno li posso ridurre? Sì, mi faccio un panino, me lo porto da casa. Ok, allora vado a ridurre quella spesa e quindi vado poi a lavorare in questo modo. Però solo avendo un'idea effettiva di quello che stiamo spendendo, e ho creato questi grafici apposta, perché così io, vedi, metto su il mouse e vedo esattamente quanto ho speso in ognuna, è solo facendo questo che io posso vedere esattamente come vanno le cose, cioè quanto sto spendendo. E una volta che io ho chiaro quanto sto spendendo, io so anche qua come andare a ridurre, dove andare a toccare per spendere meno. Quindi questo è un modo estremamente semplice per organizzare le proprie uscite, le proprie spese, ma che contemporaneamente ci permette di tener traccia veramente di quello che sta succedendo al nostro portafoglio, cioè di quelle che sono le nostre uscite, e basandoci su quelle riusciamo a comprendere quanto e in che misura ci serve risparmiare per poter creare un gap da cui poter tirar fuori qualcosa. Cosa vuol dire creare un gap? Ne ho parlato in quel video che ti ho detto prima, però sostanzialmente significa questo. Per rendere le cose semplici facciamo così. Ipotizziamo che io stia adesso spendendo in media fai 900 euro al mese e facciamo finta che guadagno 1000 euro al mese. Io qui ho un gap di libertà ed è questa quella che si può chiamare ricchezza di 100 euro. Con questi 100 euro che cosa posso fare? Posso fare ben poco. La cosa più sensata che c'è da fare è investire su di me o investire sui mercati, che è un investire tra virgolette sul me futuro. Perché? Perché mi vado a pagare, mi vado a costruire qualcosa che nel tempo mi porterà a entrate, perché ci crescono i mercati, perché il denaro si svaluta, perché ottengo dividendi e così via. Quindi vado a pagare me stesso, vado a dare un assegno al me del futuro. Cosa succede in genere però? Succede che magari ti sforzi tantissimo per aumentare le tue entrate, quindi ipotizziamo che ottieni un aumento o cresci perché fai partire una nuova attività o quello che vuoi e passi a 2000 euro al mese. La maggior parte di persone che cosa fa? A questo punto guadagno 2000 euro al mese, allora qui non spendo più 900, ma magari ne spendo 1200, 1300. Perché? Perché sto guadagnando di più, quindi posso permettermi di spendere di più. Ed è qui che ci sta l'errore. Il vero gioco è quello di mantenere il necessario, quindi vivere una vita tranquilla, agiata per carità, ma tranquilla. Aumento, arrivo a 2000, sì, ma qua non porto a 1300. Qua mi tengo i miei 900 al mese più o meno di spesa, che tanto ti garantisco che nel tempo andranno a crescere. Perché andranno a crescere? Perché tutto si svaluta. L'inflazione ti brucia i soldi in tasca e i prezzi delle cose salgono. Il problema è che se sei dipendente, gli stipendi non aumentano, rimangono costanti. E quindi se tu aumenti il tuo tenore di vita, perché stai guadagnando di più, rischi, rischi, di in realtà strozzarti nel futuro. Perché i prezzi salgono. È matematico, perché la valuta si svaluta, perché c'è l'inflazione. Allora cosa succede? Che se tu riesci a mantenere controllato, tu riesci non più ad avere un gap di 100, quindi una ricchezza di 100, ma riesci ad avere una ricchezza di 1.100. E quindi con una ricchezza di 1.100 tu puoi 1. Crearti un fondo emergenza. 2. Puoi andare a investire di più. Investire su cosa? La prima cosa su cui dovresti investire è la tua formazione per aumentare ulteriormente le entrate. Una cosa estremamente importante. Ciò che mi ha permesso di raggiungere gli obiettivi che ho raggiunto e che sto raggiungendo è proprio questo. Il fatto che io riesco a mantenere una vita normale, base, dove spendo 900, fai 1.200 euro al mese di media, ma ho stretto la cinghia per anni in modo da crearmi della ricchezza che poi ho utilizzato per investire su di me e quindi aprire attività, perché ho imparato, ho appreso delle skill, delle abilità che mi permettono di aprire delle attività. Ho ottenuto i soldi da parte che posso utilizzare per investirli su queste attività che quindi mi portano più soldi e quindi mantengo inalterato qua il budget, quello che spendo, però vai a crescere. Quindi passi magari da 1.000, poi arrivano a 2.000, poi arrivi a 4.000 al mese, poi arrivi a 10.000 al mese, poi arrivi a 20.000 al mese e va a crescere, perché tu man mano che stai crescendo stai dedicando più sforzi per aumentare ulteriormente le entrate. Però lo step 1 è ridurre le uscite. Crei la tua ricchezza, quindi crei del denaro extra, quindi mettiamo euro extra. Una volta che hai creato degli euro extra, li investi per apprendere skill che fanno che cosa? Che vanno ad aumentare le tue entrate. E facendo questo nel tempo, mantenendo costanti le uscite, ma aumentando drasticamente le entrate, succederà che ti troverai ad avere tanta ricchezza, cioè tanto denaro, da poter utilizzare per acquistare asset, investire sui mercati, su investire sui mercati, abbiare attività, quindi hai una possibilità di movimento maggiore rispetto a chi invece rimane lì a collimare o magari spende sì poco, perché sta guadagnando poco, ma non abbastanza poco da creare questo gap che è fondamentale. Quindi il gioco è tutto qua. Ho pensato di dividere i video apposta perché voglio dedicare più tempo a questa parte, cioè quella del monitorare le uscite e tagliare le uscite che non sono essenziali. Come vedi io qua, nonostante comunque abbia già delle cospicue entrate, vado ad ottenere delle uscite relativamente basse, perché mi limito all'essenziale, cioè quello che mi serve. Non ho abbonamenti Netflix, non ho abbonamenti Spotify, non ho abbonamenti poco essenziali, per me non frega niente di vedermi i film di Netflix, cioè c'è pieno di film, cose che si possono vedere online, non me ne frega assolutamente nulla, quindi non vado a spendere su queste robe qua, semplicemente, e vado a tagliare, e vado a tagliarmi i costi. Non ho l'ultimo modello di iPhone, ho un telefono da 200 euro, non mi frega di spendermi chissà quali soldi, quindi questo è quello che faccio personalmente, cerco di vivere una vita tranquilla, con delle spese non eccessive, contenute, che mi permettano comunque di vivere tranquillo, cioè se devo fare un viaggio lo faccio, se devo fare qualsiasi cosa la faccio, però ecco, non vivi con l'ansia alla gola, perché? Perché hai vissuto con l'ansia alla gola per tanto tempo, hai stretto la cinghia per un po' di tempo, in modo da costruirti quel minimo di ricchezza che ti permetta poi di crescere. Ed è importante partire subito proprio con la costruzione di quel gap, di quella ricchezza, perché se riesci a fare questo, hai vinto nel lungo termine. Tutto sta nell'edizione, nel mettersi lì e fare il lavoro, e poi nel tempo sicuramente i risultati arrivano. Qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, scrivila qua sotto nei commenti. Ti ringrazio per essere stato qui con me, iscriviti al canale se ti fa piacere, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.